Ciao, sono Mirko Mariotti e vorrei dire una cosa. Venerdì 8 giugno a 90 di piave si svolgerà l'evento Colfondo e Lettica nel Piatto, dedicato ai vini e all'infermentazione di bottiglie. Nell'ambito di questa manifestazione, la quale è più sostabilitato con il nostro Fortana e questo riclasse di organizzatori, si svolgerà un'asta di beneficenza con del magnum messo a disposizione dai produttori e le etichette saranno dei pezzi unici dipinti dall'artista Cassandra Winehouse. Per questo motivo ora preparerò magnum di Fortana utilizzando le singole bottiglie. Per fare questo ne utilizzerò due e riaprirò con la tecnica del volante. Eccoci, riempiamo per non perdere la massa. Eccoci, abbiamo tappato il nostro magnum di Fortana. Ora non mi rimane da dirti che se vorrai partecipare all'asta, anche senza venire a 90, puoi contattare gli organizzatori, quindi i loro recapiti e-mail. Ti ringrazio per quello che vorrai fare e per l'aiuto che insieme daremo alle persone colpite dal terremoto delle miglie. Grazie a tutti.